Benvenuto nel Visionary Store. La nuova classe A di Mercedes-Benz è il futuro in movimento. Guardala, vivila, esplorala. Lasciati guidare oltre i punti di vista. Stai per scoprire il design, la sportività e la tecnologia della nuova classe A. Grazie alla fusione di reale virtuale potrai vivere un'esperienza unica nel suo genere. Come definirla? Visionaria. Visionaria perché ti permette di vedere quello che gli altri non vedono ancora. Visionaria perché cambia il modo di vedere la realtà, di concepire gli spazi e di interagire con le informazioni. Sei pronto? Inquadra con l'iPad il Visionary Totem e scopri in anteprima la nuova classe A. Sarà un'esperienza straordinaria. Personalizzala con il Car Configurator. Condividila caricando foto su Facebook. Scopri gli highlights video. Muoviti. Interagisci con il Monitor Keynet. Avvicinati e posiziona sopra la testa la mano per attivare il controller. Interagisci con la nuova classe A muovendo le tue mani. Vesti il Visionary Tutor con il Merchandising Mercedes e condividi su Facebook le tue scelte. Sei nel Visionary Store. Nuova classe A. Il presente che cambia il futuro. Grazie a tutti.